Credi che il minimalismo sia un modo per imparare a gestire meglio i tuoi soldi e i tuoi spazi? In realtà ci sono molte aree della propria vita che possono essere impattate dal minimalismo e ne parliamo in questo video. Ciao, sono Roberta e bentornata su Io ricomincio da me, il canale dedicato alla crescita personale per le donne che vogliono cambiare la propria vita, dove parlo di minimalismo, mindfulness, gestione del tempo e del denaro. Se questi argomenti ti interessano e non li hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere le notifiche dei miei prossimi video. Nel video di oggi in particolare parliamo di quali aree possono essere positivamente impattate dal minimalismo. Perché spesso e volentieri si parla soltanto dello spazio e dei soldi, ma in realtà queste sono due cose molto importanti, ma non sono le uniche due. Come dicevamo, una delle aree che possono essere impattate nella nostra vita dal minimalismo è lo spazio, perché indubbiamente quando smettiamo di riempire la nostra vita e la nostra casa o i nostri spazi di cose, ci teniamo conto di come avere più spazio. L'altra parte a cui solitamente si pensa quando si pensa al minimalismo è il denaro, perché è vero che se abbiamo meno cose e ne abbiamo necessità di avere meno cose, pur avendo magari oggetti di un valore più alto, riusciamo a risparmiare denaro, in alcuni casi anche tanto denaro. Ma queste due aree, per quanto importanti, non sono le uniche due che possono beneficiare del minimalismo. Quali sono le altre aree su cui il minimalismo ha un grande impatto positivo? Bene, la prima area a cui non si pensa è le relazioni. Può sembrare molto strano, in realtà è molto ovvio. Quando impariamo a focalizzarci sulle cose per noi importanti, sulle cose che ci danno soddisfazione, sulle cose che amiamo, riusciamo a capire che ci sono delle relazioni nella nostra vita che sono tossiche o che comunque sono non importanti e quindi le abbandoniamo. Invece di continuare a frequentare persone che per noi non vanno bene, che ci fanno sentire male, che non abbiamo piacere di vederle, impariamo a eliminare per quanto più possibile queste persone. Un'altra cosa che spesso si fa magari è smettere di avere 100.000 contatti su Facebook con persone che abbiamo visto una volta o che abbiamo frequentato 20 anni prima e con cui in realtà non abbiamo nessun motivo per stare. Le relazioni quindi possono essere viste in un'altra maniera e possono essere vissute in una maniera molto più consapevole e conscia. Un'altra area della nostra vita che viene positivamente impattata dal minimalismo è quella delle esperienze. Infatti una delle cose che i minimalisti dicono sempre è che invece di circondarci di cose impariamo a vivere le esperienze. E spesso e volentieri cosa succede? Che persone che magari continuavano a comprare per consolarsi imparano quanto sia bello fare determinate esperienze. Imparano anche a capire quali sono le esperienze che ha senso fare o meno perché spesso e volentieri magari si tende a fare determinate cose perché tutti le fanno, perché le si è sempre fatte ma in realtà quelle esperienze sono delle cose che non ci portano valore aggiunto. Ti faccio un esempio molto semplice. Io per diversi anni sono andata in palestra perché come tutti dicevano insomma ci vuole un po' di sport io in realtà non ero una grande sportiva ma un po' bisogna farlo e quindi facevo la palestra. Non mi piaceva ma ci andavo comunque. Quando ho abbracciato il minimalismo e la mindfulness ho provato a fare yoga e ho capito che lo yoga per me è un'esperienza di gran lunga migliore della palestra perché è qualcosa che è molto più adatto al mio essere poco sportiva dal punto di vista proprio fisico e perché è qualcosa che mi permette di entrare molto più in contatto con me stessa col mio corpo e con quello che io sento e quindi ho capito quali sono le esperienze da quel punto di vista che per me sono più valide. Un'altra area della nostra vita che spesso viene impattata impositivamente dal minimalismo è proprio il rapporto con il cibo e il corpo. Troppo spesso infatti soprattutto noi donne abbiamo un rapporto che non è dei migliori con il cibo e con il corpo perché vediamo tutti quelli che sono gli standard che la società di oggi ci dà con questi corpi statuari scolpiti spesso con photoshop ma in ogni caso con dei corpi che sono abbastanza lontani da quelli normali e anche il rapporto con il cibo proprio per raggiungere quell'idea è un rapporto che è spesso falsato. Il minimalismo e da questo punto di vista secondo me il minimalismo va davvero molto a braccetto con la mindfulness ci aiuta a riconcentrarci su ciò che è importante e di conseguenza invece di continuare a mangiare perché bisogna farlo e comprare cibo che per noi non è salutare ci possiamo concentrare su delle cose che ci facciano bene che ci facciano sentire bene che non vuol dire diventare per forza vegetariani o avere una dieta super rigida ma semplicemente capire quali sono le cose che per noi vanno bene e lo stesso discorso vale per il corpo cioè imparare a capire che il nostro corpo è parte di noi e che possiamo averne cura e che possiamo concentrarci sulle cose che sono davvero importanti sul nostro corpo invece che su quello che sono gli standard che gli altri ci impongono ci aiuta tantissimo anche perché il minimalismo tende abbastanza a staccarti dalla mentalità consumistica e di conseguenza ci permette di vedere queste cose da un altro punto di vista con un occhio molto più realista e ci permette quindi di avere un rapporto migliore sia con il nostro corpo che con il cibo un'altra parte della nostra vita che poi è positivamente impattata dal minimalismo è la gestione delle notizie soprattutto col covid si è visto come siamo in continuazione bombardati da notizie vere o fasulle che sia ci ributtano addosso una quantità di notizie che per noi a volte sono ingestibili prima di tutto perché non si riesce a capire cosa sia vero e cosa no ma soprattutto poi perché sono troppe in quel contesto cioè una volta che abbiamo capito che cosa è successo nella giornata quali sono le cose che davvero dovremmo sapere e che magari abbiamo selezionato una fonte di informazione che è valida e che non è quella che passava tanto per non abbiamo bisogno di continuare a scavare e a cercare essere informati è qualcosa che bisogna fare e che è giusto fare continuare però a cercare sempre più notizie semplicemente perché si pensa che in quel modo si avrà una maggiore accesso alle informazioni non è corretto perché prima di tutto perché le notizie sono così tante che davvero diventa difficile capire come vengono date quindi con che ottica e in quale maniera e con quale scopo e poi perché comunque ci stiamo semplicemente riempendo la testa di cose che non ci servono per lo stesso motivo l'ultima area della nostra vita su cui secondo me l'ignalismo ha un grande impatto è la gestione del mondo digitale ormai tutti abbiamo un telefonino anche più di una volta televisore eccetera io non sono della categoria di quelli che dicono che bisogna abolirli perché comunque fanno parte della nostra vita però bisogna avere un buon rapporto sano un buon rapporto con questi apparecchi elettronici con quello che ci danno quindi capire che non sono il centro della nostra vita capire che possono essere fonti di grandi problemi come di grandi soluzioni capire che bisogna imparare a selezionare le cose che vediamo quelle che vogliamo e decidere come in tutte le cose cosa è per noi giusto e cosa no cosa per noi ha valore e cosa no limitare il tempo a quello che per noi è utile e di valore e evitare semplicemente di diventare noi delle vittime del telefonino alla fine io credo che per quanto sia difficile noi siamo quelli che hanno il controllo abbiamo una testa funzionante siamo in grado di decidere cosa è per noi importante siamo in grado di mettere in atto tutte le azioni necessarie per limitare i danni che determinate cose possono farci semplicemente diventando coscienti di cosa siamo di cosa vogliamo e di cosa è importante per noi e imponendoci di fare determinate azioni nella direzione che vogliamo raggiungere bene queste sono tutte le aree che sono state impattate secondo me dal minimalismo se il video ti è piaciuto ti prego di mettere un like ed eventualmente di inoltrarlo a chi pensi possa trovarlo utile se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti al canale cliccare sulla campanella per non perdere le notifiche dei miei prossimi video ciao e alla prossima ciao